Vi voglio presentare un amico, Umberto Esposito! E' quello che ha fatto questa bomba di canzone! Non c'è il passato, non c'è il futuro, la mente è un maestro, i segreti che sono deep in me, non c'è il futuro, 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 e non c'è il futuro! We, 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 we... Grazie a tutti. Grazie a tutti.